Benvenuti in questo nuovo video. Io sono la ginnasta del CSB e oggi faccio un video in cui provo a truccarmi. Io non sono molto brava a truccarmi, nel senso che riesco a mettermi l'eyeliner e il mascara, però con gli ombretti eccetera non sono molto brava. Infatti qua davanti ho la Miki, lei mi dirà cosa fare e io proverò a farlo. E io sono qui di fianco. Ok, vai Miki, dimmi. Allora, metto in quello di transizione che deve essere chiaro. Ok. Poi il bianco, quello c'è. Qual è? Il marroncino c'è lo chiaro. Anche sto facendo. Questo qua? Con quale pennello? Puoi metterlo con quello lì a punta. Non devi mettere molto, devi mettere un po' sull'esterno così. Non lo devo mettere tanto, giusto? Posso il mio pennarello? Ragazzino, sono incapace. Così, la punta verso il fuori. Così. Devo mettere anche sull'altro occhio, deduco. Vero? Mi sa di sì, Erika. Immaginavo, Irene. Così? Non si vede molto. Eh, appunto, lo stesso. Ok, va bene. Poi? Poi? Poi metti il colore un pochino più scuro. Quindi quello in basso. secondo me ti conviene mettere con l'altra parete. Quello lì un po' più chiaro. L'altro. L'altro. Questo? Sì. Ci proviamo. Eh, qual'era questo? Sì. Non esagerare, eh. Non viene da sfumare. Allora, trattarmi qua. Ma si vede? Ma si vede? Ma si vede? No. Va bene. Perché io me lo vedo? Tu te lo vedi. Io se te... Dove è che stai da qui? Qua. Ah. No. No, ok. Non lo per niente. Così? No. Non si vede. Non si vede? Niente. Niente, zero. Perché io lo vedo? Ragazzi. Con quel... Ma ora si vede qualcosa? anche mi era così anche il mio era così ora metti così questo col marrone scuro quello lì ok dove vedi che c'è la punta più alta questa qui la intingi tanto 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 ok e lo metti sotto come ce l'hai tu qua fino a non si vuole che lo faccio vedere no lo farò da sola e poi te lo metti guarda all'occhio il specchio metti qua e qui sopra lo vedi se è proprio qua ok come ok va bene ci sono la punta più lunga e poi fin dove sopra fino a metà sempre sì se inizialmente che tu guardi su mario fallo proprio mancato così no no di più proprio mettere ora quando vai sopra non solo la punta metti lo sopra anche a pappiatto così brava ora fai così con la punta l'intingo immagino e ora lo sfumi guarda capito come lo so che tanto quanto ok con questo ok e come c'è come viene fuori la mia vena artistica ragazzi come sono bella ora lo pulisci e lo stiti e lo sfumi anche sopra vedi che un po' è troppo sì bello c'è il rosa dico no 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 il rosa di sfumare lo sfumi stengo doveva molto strano guarda però non vedo sfumarlo guarda non danno in su ma andando in giù aaaah e dillo no non c'è un senso sfumarlo ancora ora no la senti quella piega dell'occhio sentirla no però la vedo capisci lì lo metti un po' è l'oscuro no no con quello va bene poco sempre questo qua poco è già tanto ok vai poco alla volta che sono tira la chiazza al contrario al contrario al contrario al contrario ho giù l'occhio no qui fa sopra che si va bene dai devo farlo anche di là no dopo di là si si lo fanno sono bravissima cosa poi guarda ne è sì 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 ok erano dovevo metterlo scuro qua sopra prima allora abbiamo detto poco questo è già tanto e poi ha detto nella piega quindi tira no quello di chiudo l'occhio ora cosa devo fare non lo so ora facciamo la non so non mi costruisco così ma la cat crease aiuto da casa allora questo allora questo è il fondo tinta è più difficile secondo me è meglio così ok la faccio in mezzo così devi fare proprio così tac da quando finisce l'occhio e quindi qua in alto ok 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 ora metto i dentini che vuoi quali metto quali metto quelli che vuoi ti ho detto e quali secondo te mi stanno meglio quello di scuro quale e mezzo ok con quale pennello quello no 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 questo no ok devo pulirlo ragazzi diventerò bicolor guardate in realtà sembrano lividi ma in realtà è il colore e devo metterlo uguale vero c'è sopra il coso la punta è uguale è uguale però di nuovo perché il fondito si asciuga eh di metterne tanto di brillantino e dillo e non l'ho mai fatto micchi com'è eh l'hai sfumato male no non l'ho neanche sfumato non l'ho ancora sfumato devo sfumarlo non si capisce che è un brillantino però dai non è male devo sfumarlo con quello lì sempre a punta no no sì mi piace mi piace tutto di quello vai dimmi è bello ma cosa devo fare è troppo scuro non ci puoi mettere qualche colorino allora ma devo ancora finire credo l'occhio praticamente non si vede che sei truccata devi mettere un colore un po' più acceso oppure un marrone un po' più scuro secondo me ok micchi mi dicono di mettere un colore più acceso sì sei è uguale ok perché tu non ti trucchi mai perché non sono incapace come puoi vedere eh ma devi sta a vedere meglio meglio sta a vedere a me dai è meglio bello poi metti un punto luce devo farlo prima dall'altra parte immagino sì vai questi ma devo pulirlo prima che si no 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 metti tanto tanto così vi la tiro se non è giusto ragazzi io non sono un genere del trucco solo io ho provato più volte e e sono riuscita sicuramente prima erica lo metti troppo in alto devi partire dalla fine dell'occhio cioè l'occhio non è che ti finisce qua eh hai ragione come fai e ormai lo lasci lì no guarda sì e ora devi mettere il trucco no no ok guarda è venuto meglio ho fatto il calma non mi piace più questo perché perché questo qua è tipo tutto in un punto dovresti sfumarlo un po' di più forse però è più bello in effetti cioè è più luminoso ragazzi mi fai lì però se tutto il video farei no ma non mi piace cos'è che ti manca? non lo so non mi piace ok non ci stavo io dai no aspetta voglio prima vederlo allo specchio un attimo no dai voglio tuttare vai beh sì in effetti è un pochino meglio no no è come l'hai visto ma il mascara il mascara andiamo a metterlo come te lo metto io oh 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 vado cosa devo fare? devi tiralo su il mascara finora lo so fare e poi poi lo tiri a destra a destra faccio un toccio dai una cosa mi è venuta bene dai una cosa mi è venuta bene brava eh almeno il mascara lo so mettere eh devo mettere anche sotto? o non lo metto sotto? un goccino? sì ma comunque un'altra storia con la Miki cioè lei mi trucca bene sapete che lei mi ha fatto il trucco per i miei 18 anni? oh mamma è vero per la mia festa di compleanno mi ha truccato lei ok credo di aver finito cosa ne pensi? mi colla come mi sono truccata mi sono truccata veramente bene no sinceramente stai bene però manca ancora roba ah manca ancora roba cosa manca? manca il contouring lì c'è scritto tipo blush sì ok intingilo lì perché è scuro tanto o poco? un po' ok basta ora fai e ora lo picchietti fai più lo picchietti in diagonale poco occhio perché o fai la riga se no devi passare da metà guancia fino a su contrario ok e ora lo scumi a contrario così sempre così no Erika allora su e giù no di lato ok no così no no voglio guardare faccio vedere ok ok e poi quando sei qua sulla cute ok devo ritingerlo ti piace la mia terra? prego eh ok però devi fare la tua parte Vicky sì ok ora devi mettere l'illuminante il blush illuminante con quello allora il blush colato questo sì illuminante ed è questo allora vado questo allora devo mettere qui questo viene sopra no qui tanto o poco allora tanto o poco è orrenda è orrenda vero guarda che ce n'è sì lo vedevo eh vedi che è rosa ancora muova dove lo posso mettere la geografia? c'è tipo lo potrei mettere qui soprattutto come vuoi non esagerare cacchio lo vedo lo vedo dire cosa è te come dire cosa è un muro ok quello mettine poco perché quello colora ok lo so dovete mettere tanto storia geografia dove c'è la fossetta? scende c'è l'avete visto? ok ho fatto un casino cioè dopo vi faccio vedere la foto di com'è il tavolo ok come l'ho messo? bene stai molto bene sì ragazzi ho finito dopo un'ora ha finito sì allora adesso vi faccio vi faccio vedere la foto vabbè quindi vabbè questo è tutto quello che ho usato e questo è tutto il casino che ho lasciato tra dettagli allora questo è il risultato mi sono un po' pettinata non mi sono piaciuta i capelli però vabbè è così spero vi piaccia spero e speriamo che questo video vi sia piaciuto se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale lasciate tantissimi like ricordatevi di attivare la campanella per avere le notifiche di tutti i nostri nuovi video e vi lasciamo i nostri nuovi di instagram in descrizione per di più dopo che uscirà il video metterò un post su instagram dove voi mi direte se volete un altro video in cui provo a truccarmi ovviamente cercando di migliorare se no invece mi dite no non mi è piaciuto però il like lo lasciate lo stesso per favore e noi ci vediamo al prossimo video adios grazie a tutti grazie a tutti